nel video tutorial di oggi realizzeremo insieme questa piantina grassa semplice e di grande effetto è composta da due piante grasse una imbottita e una no e da un po di verde che va a riempire a dare tridimensionalità a tutta la nostra composizione se vi va di realizzarlo con me vi faccio immediatamente vedere l'occorrente in primo luogo vi dovete comprare vi dovete trovare dei vasi nella forma nella misura e nel colore che più vi piace fatto questo dovete prendere dei fili acrilici io ho scelto il rosso perché ho comunque inserito delle fiorellini piccolissimi in mezzo al verde dovete poi prendere dell'acrilico verde possibilmente in due colori in modo da fare piantine diverse sia nella forma che nel colore prendete il marrone scuro per fare il terriccio e poi se riuscite a trovarle io mi sono imbattuta piacevolmente in questi filati che ho immediatamente trovato utili per queste lavorazioni perché sono già filati lavorati questa è una frangia mentre questa ha una lavorazione fatta in questo modo quindi una volta lavorato già soltanto in una catenella forma automaticamente dei fili dei dei fiori che vanno a fare un'opera di riempimento veramente straordinaria ovviamente io ho utilizzato questa qui che tra l'altro sfumata per avere questo effetto naturale riempiti e di riempimento se non riuscite a trovare questo tipo di lane potete tranquillamente sostituire con i boccoli io oggi ho deciso di partire con il vasetto quadrato per realizzare il fondo per questo vaso quadrato non si lavora con la tecnica dell'amigurumi cioè non si parte dall'anello magico ma semplicemente si fa una catenella mi sono abbassate 15 maglie sto lavorando con un acrilico e un uncinetto 3 e mezzo e andremo a fare delle righe di andata e ritorno quindi semplicemente dopo aver fatto le 15 catenelle io rientro nella seconda catenella dall'uncinetto e comincio a fare delle righe di andata e ritorno semplicemente quindi andata e ritorno si gira sempre facendo una catenella quindi fatte queste 15 maglie di ritorno faccio una catenella giro il lavoro ricomincio facendo altre 15 maglie fino a quando non copro tutta l'ampiezza dell'apertura del vaso quando avrò fatto questo vi faccio vedere i due modi in cui c'è la possibilità di procedere una volta fatto il nostro quadrato e una volta che ci siamo accertati che va a coprire l'apertura del vaso andiamo a fare un giro di punto basso tutto intorno avendo l'accortezza di lavorare due maglie negli angoli in modo da creare comunque uno stondo che si vada perfettamente ad adattare alla all'angolo stesso del vasetto perché altrimenti se l'angolo lo mangiamo si piega per dentro e rischiamo di lasciare dei vuoti qui e sono poi brutti da vedersi quindi un giro di punto basso tutto intorno e due maglie andranno poi lavorate agli angoli dopo aver eseguito il giro di punto basso tutto intorno e aver creato l'aumento agli angoli semplicemente con due maglie vedete adesso non andiamo a fare altro che lavorare in tondo allora ho fatto la base e salendo appunto basso ho rifatto praticamente l'equivalente di questo contenitore verso la fine perché il mio contenitore praticamente un po più largo sulla base leggermente più stretto all'interno insomma la forma leggermente cambia ho fatto giusto delle riduzioni agli angoli salendo in modo da chiudere leggermente l'apertura in questa maniera io posso prendere tranquillamente il contenitore ho appena realizzato infilarlo all'interno del mio vaso come vedete ci si adatta alla perfezione poi mi sono rifatta lo stesso rettangolo con il quale abbiamo cominciato che andrà semplicemente a chiudere la parte che ho appena fatta quindi adesso che cosa si va a fare una volta creato il il supporto quindi il contenitore diciamo così io lo vado a riempire con dell'ovatta sintetica con dell'imbottitura da amigurumi potete prendere sia quella già sfioccata sia quella da sfioccare non importa non c'è nessuna differenza l'importante appunto imbottire quindi dare praticamente un corpo all'interno del vedete del nostro contenitore perché poi questo qui andrà a sostenere tutto quello che ci mettiamo sopra quindi non lo possiamo lasciare vuoto perché una volta cucita poi la parte su questa collassa verso l'interno e precipita verso dentro tutto il lavoro che noi facciamo invece questo deve rimanere abbastanza sostenuto e tutto ciò che lo sostiene appunto l'imbottitura quindi ne servirà abbastanza rispetto diciamo alla forma del basetto vedete io devo schiacciare il più possibile guardate se andate lì in dentro rimane dello spazio quindi ne dobbiamo mettere a sufficienza quando riteniamo che la quantità di imbottitura sia sufficiente io estraggo comunque il mio vedete poi ovviamente fuori dal dal vaso un po' fuoriesce ma deve essere veramente tanta perché questo poi sostiene tutto quanto il nostro lavoro a questo punto dobbiamo mettere il coperchio cioè dobbiamo chiudere il nostro vasetto ad adattando praticamente sopra il nostro il nostro quadrato quindi mi prendo come riferimento un angolo entro con l'ago e mi vado a cucire e mi vado a cucire diamo un punto sopra un punto sotto e poi viceversa cercando di prendere tutti i punti il punto sotto un punto sopra entriamo in ogni punto base sia sopra che sotto una volta fatta la cucitura abbiamo fatto il nostro cubo questa ovviamente un pochino si vede però è facoltativo decidere di piantarlo questa questo terriccio capovolto quindi con la parte iniziale diciamo dove non si vede per niente il cordoncino vedete sporge anche leggermente oppure se vi va anche dall'altra parte senza nessun problema tanto in un modo o nell'altro di qualunque forma vi sia venuto vedete sporge nella stessa maniera questo spazio noi non lo mostriamo a questo punto potete decidere come procedere nel senso che questa parte può essere incollata all'interno per essere sicuri che nel tempo non si muova perché se no insomma effettivamente viene viene fuori oppure la potete tranquillamente lasciare così come si trova assolutamente facoltativo appunto mettiamo un attimino via vaso e terriccio e cominciamo con il verde quindi cominciamo a creare le piantine ve ne faccio vedere due una che va imbottita e una che non va imbottita allora prendendo sempre il vostro uncinetto 3 e mezzo andiamo ad avviare l'anello magico all'interno del quale lavoreremo 6 maglie quindi una due tre quattro cinque sei tiriamo il cappietto corto chiudiamo con un punto bassissimo nel primo nella prima maglia lavorata eccoci qua e poi ricominciamo il giro raddoppiando queste maglie quindi dall'anello magico queste sei maglie basse diventeranno 12 nel giro successivo quindi io entro in ogni punto lavoro due maglie quindi faccio 2 3 4 5 e 6 7 e 8 9 e 10 e nell'ultima facciamo 11 12 nel giro successivo andiamo nuovamente a raddoppiare tutti i punti fatte tutte 24 le maglie da questo momento in poi questo non lo facciamo molto grande che cosa facciamo ci limitiamo a lavorare tutte le maglie come si presentano quindi abbiamo 6 12 24 quindi abbiamo raddoppiato ad ogni giro in questo secondo giro praticamente ci fermiamo con 24 e cominciamo a lavorare i punti come si presentano quindi facciamo tanti giri da 24 maglie lavorando in tonto quindi senza chiudere e fino ad arrivare ad una determinata altezza che possa essere appunto quella relativa a una di queste piantine 24 giri dopo questa è la misura del mio della mia piantina grassa quando penso che l'altezza si aggiusta anche in proporzione alla misura del vaso metto un segnapunti e faccio un giro di sole diminuzioni quindi prendo praticamente ogni punto nella costa più esterna quindi quella più verso di voi e passo con il filo attraverso questi due punti per poi fare il mio classico punto basso quindi entro nelle due coste successive estraggo il filo dalle coste e poi faccio il mio punto basso di nuovo facciamo questo giro di sole riduzioni che ci consente di chiudere il fondo della nostra prima piantina una volta ridotta a metà le maglie andiamo a chiudere con un punto bassissimo e tagliamo il filo e il nostro cactus è fatto perché non lo andiamo a chiudere perché questo è il cactus che non va imbottito come si fa a non imbottire questo cactus ve lo faccio vedere subito perché normalmente quando si procede con l'amigurumi i giri sono di aumenti di 6 in 6 qui invece ho raddoppiato tutti i giri quindi creando una morbidezza sopra che si presta per questo lavoro andiamo a pizzicare in questo modo facciamo due pizzicate destra sinistra sopra sotto così vedete io pizzico qua e pizzico qua quindi via via scendo facendo questo lavoro non faccio il classico cetriolo che è tutto conica come forma ma ma realizzo quest'altra che è a stella diciamo così vedete si torce anche un po perché la lavorazione a spirale che fa questo lavoro per accentuare questa forma ci aiutiamo col pezzettino di filo che ci siamo lasciati alle estremità e lago e cosa vado a fare una volta fatta la forma stella faccio una cucitura incrocio e poi pizzico dall'altra parte vedete quindi una pizzicata l'ho fatta così creando la stella da una parte e una dalla parte opposta vedete accentuo questa forma quindi faccio così e stringo riesco al centro e poi faccio nuovamente così nella parte opposta quindi accentuando questa forma il mio la mia piantina praticamente fatta con questa forma vedete particolare lo scampolo di filo che è rimasto sotto ci servirà poi per andare a cucire la nostra piantina al centro se vi piace o leggermente spostato all'indietro del nostro terriccio e lasciamo a questo punto facciamo la seconda piantina che è molto più semplice perché segue la tecnica amigurumi quindi semplicemente andiamo a fare il classico anello magico con 6 maglie basse all'interno che diventeranno 12 nel giro successivo 18 e poi 24 questo che cosa significa che dobbiamo aumentare raddoppiare il primo giro di 6 punti bassi e poi distribuire come sempre le 6 maglie di giro in giro quindi faremo un punto un aumento nel giro successivo due punti un aumento 3 un aumento fino a quando la testa del nostro cactus ci piace la cui misura ci piace e poi cominciamo a salire i punti come si trovano senza creare aumenti allora io ho fatto 6 12 18 24 30 quindi 6 maglie iniziale 12 quindi tutte se le maglie raddoppiate qui abbiamo fatto un giro un punto normale in questo giro un aumento qui abbiamo fatto due punti un aumento qui 3 e un aumento e siamo arrivati appunto a 6 12 18 24 30 da questo momento in poi per 1 2 3 4 5 6 giri lavoriamo sempre 30 maglie per ogni giro quando abbiamo fatto questi sei giri e quindi viene fuori questa cupoletta possiamo decidere se volere una forma a cilindro come queste qui che sono lavorate sempre con lo stesso numero di punti fino alla fine quindi queste forme che io chiamo a cetriolo oppure se vogliamo fare una forma che degradi leggermente quindi che parte con una testa un po' più grande e vada a diminuire sotto quindi se preferite la forma cetriolo volete abbinare più forme vi fermate a 24 a 30 e proseguite con lo stesso numero di punti fino all'altezza desiderata adesso vi faccio vedere come si procede invece volendo degradare cioè volendo avere questa parte superiore leggermente più grande quella di sotto un pochino più piccola quindi un degradare di misura quando abbiamo fatto il sesto giro senza aumento quindi sono 30 maglie per ogni giro andiamo a fare un giro di riduzioni se ci siamo fermati a 3 maglie un aumento dovremo fare 3 maglie e una diminuzione quindi una 2 e 3 maglie basse e una diminuzione che vi ho fatto vedere prima entro nella costa verso di me entro nella seconda costa faccio passare il filo attraverso tutti i due punti e poi lavoro il mio punto basso in questo modo non si generano buchini e sono importanti perché in amigurumi i buchini proprio no perché altrimenti esce fuori l'imbottitura e riduco quindi riduzione tre punti bassi se vi siete trovati giusti vedete vi avanzano giusto due punti 1 e 2 dove abbiamo messo praticamente il fermaglio e quindi ci troviamo bene a questo punto facciamo un giro facciamo l'ultima riduzione quindi siamo ritornati da 30 a 24 maglie io direi di non diminuire più quindi metto un segno per sicurezza e da questo momento in poi continuerò a lavorare questi 24 punti fino a raggiungere l'altezza da me desiderata arrivate ad una certa altezza andiamo a creare l'imbottitura a riempire quindi il nostro il nostro cactus la nostra piantina modelliamo leggermente con le mani e facciamo un giro di tutte le riduzioni non importa che non andiamo a chiudere completamente sotto perché comunque ci occorre che la nostra base sia leggermente aperta per far sì che poi la piantina stai in piedi cioè non possiamo arrivare a 6 maglie ma ci dobbiamo tenere un attimino più ampia sulla base per poter far stare in piedi la piantina quindi facciamo le nostre riduzioni chiaramente io non ho messo il fermaglio però diciamo che segnate l'ultimo punto ovviamente dove avete lavorato e lavorate le riduzioni fino a tornare al punto iniziale quindi al punto dove abbiamo lasciato il nostro segnapunti procediamo in questa maniera noi abbiamo realizzato due piantine adesso le andiamo ad accostare tra di loro per vedere l'effetto che fa però ovviamente non possiamo cucire di primo a chitto perché effettivamente non sappiamo vedete io comunque ho messo già l'ago però effettivamente non so quale possa essere la posizione più congeniale per questo motivo mi organizzo praticamente con spilli o tutto quello che vi può essere utile per tenere in piedi queste piantine e bloccarle giusto con qualche spillo alla base del terriccio vedete stanno leggermente in piedi tanto per fare delle prove prima di fare la cucitura definitiva e quindi andiamo a fare delle prove vediamo se ci piace più centrale l'uno più spostato l'altro quando raggiungiamo una forma che ci piace magari possiamo tenere tutte e due le piantine più laterali come vedete in questo caso lasciando questa parte di terriccio libero qui magari andiamo a mettere una un fiorellino e poi magari qui davanti andiamo a mettere questo verde così in forme che ci va a fare un riempimento ma anche alleggerire l'effetto di questi due verdi che sono leggermente più scuri una volta cucita la prima piantina al mio terriccio che nel frattempo non è stato incollato io l'ho lasciato così come si trova vado a posizionare il mio secondo cactus e cosa faccio vado a mettere un punto nella parte marrone quindi legata al terriccio e un punto vedete lo prendo proprio sul bordo più interno in modo che i punti siano completamente invisibili vado sotto al cactus vedete lo sollevo leggermente do un punto sulla parte marrone e poi ridò un punto direttamente sul cactus e poi ridò un punto vedete proprio sul bordo dove c'è l'apertura vado proprio qui a prendere le ultime maglie che abbiamo lavorato e poi da un punto qui sotto sempre sollevando leggermente la testa del cactus all'indietro in modo da poter avere la visibilità così da fare dei punti completamente nascosti vedete mi sono avvicinata molto con la camera perché a volte la parte più difficile degli amigurumi non è tanto quella di creare il pezzo ma di assemblare tutti i pezzi tra di loro quindi vedete vado proprio nell'ultima riga lavorata e vado nel terriccio prendendo il punto sotto al cactus quindi un punto sul cactus uno sul terriccio ed eccoci all'ultima azione della nostra piantina come vi ho detto abbiamo realizzato insieme il terriccio e abbiamo realizzato appunto questi due queste due piantine una con imbottitura e una senza che abbiamo modellato poi sotto e a grazie a questi gomitoli di lana che non hanno una forma particolarmente regolare è possibile creare tutto questo verde che è stupendo secondo me fa più l'effetto poi questo verde che tutto quello che mettiamo su e ho messo giusto due puntini di rosso come se fossero delle piantine dei fiorellini che stanno sbocando dal terreno se li volete realizzare uguali non sono altro che un anello magico con sei maglie basse all'interno e se maglie basse nel giro successivo e basta giusto per creare una forma tondeggiante che poi si va ad incastrare a nascondere in mezzo a questi ciuffi irregolari vedete pendenti se il mio progetto vi è piaciuto fatemelo sapere scrivetemi se avete qualche dubbi mi potete sempre contattare e spero che insomma vi sia stato comunque utile di grande ispirazione grazie come sempre alla prossima